Nel panorama dell'intrattenimento televisivo, ci sono momenti che riescono a catturare l'attenzione e il cuore degli spettatori. Uno di questi ha avuto luogo all'interno della casa del grande fratello, dove Enzo Paolo Turchi ha condiviso un'esperienza profondamente emotiva riguardante Carmen Russo e la loro figlia Maria, suscitando una forte commozione collettiva. Questo episodio non solo ha arricchito il reality show con un momento di autentica umanità, ma ha anche messo in luce la capacità delle storie personali di creare connessioni emotive profonde. Un racconto emozionante. La narrazione offerta da Enzo Paolo, durante una delle ultime puntate del programma, ha permesso al pubblico di intravedere aspetti intimi della sua vita familiare. Conosciuto per la sua carriera nel mondo della danza e per essere il marito dell'amata showgirl Carmen Russo, Turchi ha scelto questo palcoscenico mediatico per aprire il suo cuore, rivelando dettagli toccanti sulla sua relazione con Carmen e sulla vita quotidiana con la loro figlia Maria. La sincerità e l'affetto trasparente nelle sue parole hanno generato un'ondata di empatia sia tra i concorrenti sia tra i telespettatori, dimostrando come le storie genuine abbiano il potere di superare le barriere dello schermo. Il focus sul rapporto tra Enzo Paolo, Carmen Russo e la piccola Maria è stato particolarmente significativo. Attraverso gli aneddoti personali condivisi da Turchi, è stato possibile scoprire latitudini emotive solitamente nascoste al grande pubblico. Questa esposizione genuina dei momenti vissuti in famiglia ha evidenziato un legame indissolubile che resiste alle sfide quotidiane così come alla pressione derivante dalla partecipazione a un reality show dal calibro del grande fratello. Le parole del coreografo hanno sottolineato l'importanza centrale della famiglia nella sua vita, rivelando una dimensione umana profonda che spesso rimane celata nelle figure pubbliche. Reazioni ed emozioni. La reazione dei compagni d'avventura nel reality show non si è fatta attendere. Moltissimi sono stati visibilmente commossi dalle parole sincere di Turchi. Anche sui social network si è verificata una vera ondata di supporto verso l'artista napoletano. Numerosissimi fan hanno espresso solidarietà ed empatia per quanto condiviso riguardante le persone più care della sua vita. Questa risposta collettiva evidenzia come certe narrazioni personali possano toccare universalmente chi ascolta o osserva da lontano, creando ponti emotivi forti che trascendono i confini dello schermo televisivo.